Vedo un... 230 Qualcosa di strano Fede che cavolo è quella roba? Eh lo vedi? Siamo arrivati? Io all'inizio vedevo lo scoglio, poi ho visto tutta la costruzione Oh che bellino sto facendo le uova Fategli la foto, vi prego che è lui Benvenuti all'episodio finale di Raft Che non sarà l'episodio finale, ma che è l'episodio finale Nel senso che con il raggiungimento della location Noi finiremo il gioco Ma dopo di che continueremo ancora un po' Perché vorremmo fare ancora un altro po' di cose Quindi potete stare tranquilli Però comunque oggi teoricamente vediamo il finale del gioco Quindi è molto interessante Allora voglio far vedere un pochettino come siamo messi per arrivare alla location E ti dico Fere che manca un bordello Eh bene Addirittura per colpa della tempesta ci siamo allontanati tantissimo Ok È difficile Senti devo dire una cosa prima di iniziare a far vedere tutto Ok Non noti che manca qualcosa? No Adesso se mi guardi Ok È successo quel che è successo Alla fine all'ennesimo colpetto che gli dai quando ti morsica la zattera è andata come è andata Va bene Quindi abbiamo finalmente il trofeo di Pasqualino E ufficialmente stiamo passati a Pasquala Sì Perfetto Perché la scorsa volta come di qua avevamo perso la testa per colpa del bug E quindi abbiamo dovuto tornare indietro di una generazione Tornare nel passato e riavolgere il tempo Siamo dovuti tornare indietro Sì 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 Allora Allora Vediamo un pochettino È già arrivata Pasquala È velocissima È Pasquala guarda che è cattiva Ma mia se è cattiva Ma mia se è cattiva Ha doppia vendetta attiva Quindi è cattivissima Ovviamente Allora cerco di tornare a bordo E ti dico qual è il mio piano per raggiungere la location Perché altrimenti rischiamo di metterci tantissimo Ok Ferre non si è fatta domande Ferre non si fa mai domande su nulla Non è che dice No sto facendo il trofeo Stef ma come dovrei fare Ma secondo te non ci metteremo troppo Non sei preoccupato Stef ti prego Vieni Stef Fai vedere che devono fare la foto anche di questo Lo sai che ci hanno tempestato A me su Twitter Su Instagram mi hanno tempestato Di tutte le foto di Pasqualo E molti se lo sono messi come sfondo del telefono Lo so Purtroppo per loro Quindi adesso Pasquale e Pasqualino A posto Comunque non vorrei dire Adesso rovinare tutto Sei zitto Ma Pasqualo doveva stare alla sinistra E Pasqualino alla destra Genitore e figlio No mi piace che vada in quel senso Perché Ferre ha tutto al contrario nel cervello Allora Sto cercando di accendere la batteria Meno volte possibile Per non consumarla Però adesso la direzione Sembra giusta E vuoi sapere Qual è il mio piano per arrivare lì? Allora abbiamo un bel po' di cibo Ok Soprattutto grazie a Pasqualino Bella sta roba Stef Uh Bello Come si riempie? Aspetta Bello Quanta acqua Stef E poi Quanto altro ci vuole? Ehm Ah perché poi non chiede Forse ce la fa A Ferre ce la fa da sola Perché il vetro Fa i raggi Ah bellissimo Ok allora Quindi questo qua raga Ovviamente è il depuratore avanzato Allora Ferre Puoi smettere di distrarmi? No La puoi smettere per favore? Forse no Forse no? Cosa vuol dire? Mi hai portato la vongola Stef Sì Dov'è? Vabbè raga Faccio da solo quello che va fatto Insieme alla vela Mi metto a remare Verso la direzione giusta Giustamente Però volevo anche Ferre Per remare in due Ad essere più veloci Ma Ferre deve fare Il nido dei gabbiani Allora Stef Visto che abbiamo lo spazio Inutilizzato qua Io al centro Metterò un bel nido di gabbiani Brava Io aspetto Allora praticamente La descrizione dice Che tu non ti devi avvicinare Troppo se non scappano Ok Quindi sto qui Sì Ad aspettarli No Ferre Ne ho fatto un altro È destino No Stef Vieni Vieni qui Prendi la tua bellissima pagaia E rema fin quando le tue gambe Non c'entravano a nulla Volevo dire le tue braccia Però ho sbagliato Allora Devi andare di sotto e remare Hai capito verso che direzione? No qui? Eh sì Ok Ok Tutti insieme Devi mirare bene verso sotto Guarda bene proprio verso giù Esatto Oh Issa Tieni premuto Aspetta come si fa Quando si Si rema Di solito si cantano Uno Due Uno No? Perché si fa il ritmo O si dicono i numeri O si cantano le canzoni Marinai cantavano le canzoni Ok Allora Stiamo andando Verso il finale Di questo gioco Per trovare Pesciolino Perché è un alieno E noi lì andremo Non ci interessa più È un albero strano però Guarda Ignoriamo È un albero di mango Anch'io ci cascavo Ignoriamo anche le isole Non dà un bel ritmo Basta Ok Guarda verso il basso e rema Dai Quanto ci metteremo? Cosa troveremo secondo te? Secondo te Allora Siccome sappiamo Che raggiungere Qualunque posto sia Del radar È la fine del gioco Ci sarà un posto in cui ci salvano? Chi lo sa Magari è il posto Dove poi tu vieni salvato E finisce così Dici Eh potrebbe essere A senso Siamo dispersi in mare Magari abbiamo fatto La tecnologia giusta E poi veniamo salvati E finiamo così O magari veniamo davvero Rapiti dagli alieni Stef La nostra storia Dello scorso video Era giusta Ma io non capisco Perché A parte che c'è Pasqualino Pasquala Ah Pasquala Hai ragione Io mi ci metto Ci metto sempre un po' L'abituarmi ai nomi Non capisco perché Ogni tot Mi allontano Dalla direzione giusta Forse il vento Non lo so È davvero difficile capire verso dove andare Mi fare un altro po' di piattaforma Adesso sembra Che dobbiamo remare di così Però c'è Guarda Stef Cosa succede? È pronta l'acqua Fammi andare a vedere Che bello Ah quindi praticamente si sposta di bacinella E tu te la inizi a scolare Bellissimo E puoi raggiungere di nuovo già anche nell'altra Sì 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 L'ho già aggiunta Quindi è carino Dai almeno hai acqua per un bel po' No acqua infinita Quasi sì Sì è infinita Dobbiamo remare di così adesso Fere Proviamo per un po' E devo controllare spesso Altrimenti non è che abbiamo piede Fammi vedere la tua direzione Devi essere un po' in obliquo verso sinistra Sì Esatto Ok Ok Non vedo l'ora di arrivare Sarà un episodio pieno di Di emozioni Di remate Di remate Di grandi momenti Bisogna vedere tutta la sofferenza Poverle le braccia Poi il premio Non è bello se non hai sofferto per ottenerlo no? Lo so Vabbè ci sono arrivati Invece devi dire sì Finalmente ce l'ho fatto Dopo che ero remato per 50 ore Allora per adesso sembra buono Secondo me dobbiamo fare un pochettino più così Remo è esattamente verso il centro adesso Ma non c'era tipo un motorino da mettere Allora io come ho già detto ho preso tutto Quindi se non ce l'ho qua Esatto vai nella cosa lì Il penultimo Il penultimo No sta C'è la banderuola che ci dice la direzione del vento Ma basta Sì ma noi dobbiamo andare in un punto preciso Quindi temo che sarebbe inutile Non c'è Starebbe stato bello Un mini motore Che ti prendere la zetta Cioè altrimenti Io ho quasi rotto la pagaglia Quando la rompo smetto No Ti rendi conto che siamo ancora a mille metri? Come ancora? Cioè poi io dico metri Ma non credo siano neanche metri questi Vedi? No 250 No 58 Sì ma siamo partiti che avevamo a mille due Ma ci stiamo avvicinando Allora dai aspetta Mi rifaccio un'altra bella pagaglia Ma che ci stiamo avvicinando Era ovvio Sennò che cosa stavamo facendo Ci stiamo avvicinando Allora pagaglia Plastica e corda Canta Canta Plastica e corda Perché tu sei troppo negativo Quindi non bisogna starti a sentire Se non mi metti negatività Non arriveremo mai Capito? Beh Non so se ci arriveremo mai Faccio addirittura Sì Due pagaglie Perché Raga grazie Grazie Sempre questa direzione Io vado 340 metri abbiamo fatto un piccolo taglio Abbiamo preso un bel ritmo Però dai Abbiamo iniziato a capire un pochettino meglio Come funziona Allora devo spostare Quindi ancora leggermente Praticamente raga Se si smette di controllarlo Anche solo per un attimo Si rischia che praticamente si resete E francamente non è fatto benissimo Secondo me esatto È fatto apposta per essere controllato spesso Perché da quando abbiamo iniziato a controllarlo Costantemente Perché così ti si scarica la batteria Esatto Si si scarica la batteria E quindi poi tu la devi rifare E ci metti un botto da arrivare Io ho trovato questa tattica per cui Guarda Riesco a pescare e controllare Bravissimo E quindi così sto facendo due cose Steph vedo qualcosa eh Davvero? È un'isola Aspetta No No Sì Steph Vedo un 230 Qualcosa di strano Fede che cavolo è quella roba? Eh lo vedi? Siamo arrivati Io all'inizio vedevo lo scoglio Poi ho visto tutta la costruzione Oh che bellino Sto facendo le uova Fategli la foto Vi prego che è lui Che poi ci hanno detto Di chiamarlo Galbani Mi ha fatto troppo ridere Galbani Io non ce la faccio Steph È troppo bellino Lo so Gabbiano ti abbiamo portato Steph ma che accidenti è? Non lo so fare Però sto preparando l'ancora ovviamente Per quello Un attimino fermo Di così devo remare Per avvicinarmi meglio Ce l'abbiamo fatta Steph Che accidenti di posto è enorme Non ho idea Ci salveranno secondo te? Non credo Oh hanno un sacco di satelliti Paleoliche quindi indica che hanno energia Questo è un posto molto avanzato Steph Ok sto cercando di avere un pochettino tutti i materiali È vero le paleoliche però sono bellissime Sì Preparo già un pochettino l'ancora Un po' più di Direzione perché siamo a posto Ti do una mano con la vela che Spero non sparisca perché non lo stiamo controllando Sparisce anche il posto E vabbè che cavolo è? È che non si sa mai Il triangolo delle bermuda Può essere Può essere certo Sono arrivati Ok ho messo un altro pesciolino cotto Dimmi fra quanto buttare l'ancora Non ci serve neanche arrivare vicinissimi a fare un ponte Perché è tutto a posto E vado? Sì Sono caduto Ma no Steph Dai non rovinarmi Tiro? Sì tira È il momento? È il momento Ci stiamo? Siamo arrivati Ok Salve Buongiorno Qualcuno che ci riporta a casa Sono emozionatissimo Sono emozionatissimo Io sto continuando a remare un po' Cos'andiamo più vicino possibile Ma perché? L'ancora non sta facendo effetto Come lo sta facendo effetto? No siamo fermati Ok Ci mette un po' Eh infatti io mi sono avvicinato il più possibile no? Allora Andiamo? Sì Da che parte? Di qui seguimi Ok Segui sempre a me Vado? Vai Let's go Uh ma pure cosa è stata qua? Ok Estintore non si può prendere Scatoloni di vari tipi Ci sono anche cose sott'acqua Completamente inutili Ok Ho trovato una cassa che era piena zeppa di materiali Bolt, cardine e così via Faccio un telefono ma no Non ci serve a nulla E fin qui va bene Il telefono non lo possiamo utilizzare Chiaramente comunque sembra tipo una base petrolifica abbandonata Petrolifera Petrolifera Sì Lo sai che non so dire queste parole Ehm Ok Ok ma adesso come saliamo nei punti un po' più alti? Non lo so io sono salita Guarda devi salire sulla porta e poi sali Capito? Vabbè ho fatto così Da lì dalla porta ce la facevi Ok Ma non è che anche questa inizia ad affondare una volta che c'è sopra Seguimi ed esploriamo le stesse No dai Ti prego Esploriamo le stesse zone Da qua si va verso l'alto Facciamolo dopo Ok Vediamo prima le stanze Qui sotto Telefono non allagato Ok non funziona Plastica Plastica Non possiamo utilizzarli Cioè la plastica Che strano C'erano due barilossi di plastica Quelli che troviamo anche in mare Uguali identici Ah ok Qui non c'è nulla Ok Qui dentro abbiamo controllato Non mi ricordo Ok No Rottami 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 Vedi la plastica cos'è? Ah ok plastica Vabbè prendiamo tutto Ok E qui mi sa che abbiamo finito Tutte le zone basse E mi sa proprio di qui Adesso dobbiamo iniziare Ad andare verso l'alto Quindi saliamo da qua Nel mentre c'è un gabbiano Che ci stappa a fare le angurie Eh vabbè Vabbè Ti ho visto maledetto Non ci servono più Ok C'è una cassa con un bel po' di assi Di legno Ok E qui sopra dove sono io È inutile Quindi adesso dobbiamo salire da quest'altra parte Facendo parkour qua Parkour qua E poi salendo qui sopra Vabbè E qui iniziano ad esserci le pale E quindi teoricamente qualcosa di più interessante Qui non vedo niente Non c'è una porta Ok Qua c'è una porta E vediamo un po' Ok Ok Plastica Vogliamo qualcosa di più interessante Qua ci sono delle scale Steph Ci permettono di salire sopra Interesting Aspetta però questa qua era una cassa con un sacco di robe Infatti vetro tra il ciapicicoso Ok Ok qua Ci porta qua E ci rimane quest'ultima parte giusto? Dove però? Come si sale scusate? E ora? E ora? Ah Ok Seguimi Trovato? Vedi che ci sono lì Ah sì ho capito Quindi da qua No sono caduta Dunque sì dobbiamo prendere quelle scale rotte quindi Però come? Eh passando nel bordo Steph Non hai capito? Ah Passi da qui vedi? Che io sono cascata però tecnicamente passi da qui Che casino E poi da qui dovresti fare Mi sono perso Arrivo Ce l'hai fatta? No Che noia Io odio il parkour Accidenti E vabbè però Sono troppo curioso È ovvio Una volta che sono arrivati qua Non è facile far parkour nei giochi Non fatti per far parkour Perché il salto non lo prende in modo preciso Non lo prende Non lo prende Ma lo spammo Perché non te lo prende bene Ok Se stai correndo Non te lo prende bene Oui Oui Ce l'ho fatta Ok vai almeno uno dei due vedrà cosa c'è lì sopra Ok ce l'ho fatta anche Siamo vicini alla fine Fere Ok C'è un'antennona Dai lì possiamo contattare qualcuno per la porta Occhio a non cadere Spero gli alieni Più del salvataggio spero negli alieni Sono però più probabili quelli del salvataggio Lo sai vero No Sono più probabili gli alieni Allora Qui ci sono tutte cose chiuse Come saliamo? Eh non lo so Sto cercando di notare pure io Come si sale? Ta 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 E va bene Ovviamente è molto comodo per chi lavorava qua eh Proprio comodissimo Sì Mi domando come facessero loro Guarda quanto cavolo siamo in alto Cioè sul raft vecchio abbiamo dovuto fare la cosa per andare in altissimo Guarda Qua invece si risolve C'è in gabbiano Lo squalo che gironsola Ci volerò È appena passato attraverso lo scoglio lo squalo Oh mio dio Cari animali Non siete paragonabili a noi che riusciamo a scalare Is there a utopia? Mi ha dato un achievement Anche a me Utopia Safe people Quindi è sicuro Ci sono delle persone Aspetta 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 Parti dal giornale del 23 maggio 2020 Dicono Tutto il ghiaccio si scioglierà Gli scienziati hanno stimato soltanto due anni Ok Vedi Nel 2023 l'Australia è completamente coperta dall'acqua Qua completamente sommersa E guarda nel 2028 la terra La terra nona Più terra Dopodiché Assurdo Assurdo C'è una location nella mappa Che non si capisce dove potrebbe essere E si vede questa sorta di Di grattacieli Che sono talmente alti Da riuscire comunque a stare Sopra il livello del mare E questa utopia Utopia Sarebbe insomma una sorta di È davvero esistente Cioè davvero esiste questa città dove vivere Spostati Steph Voglio vedere bene È bellissima sta roba Lo so Sto cercando di capire Di dare una ragione a tutto questo E in pratica sì Il mondo È un po' triste come storia Non ci siamo persi solo noi Si è allagato il mondo Cavolo che triste Tu ti aspetti infatti di essere tipo Disperso E invece no E invece il mondo è finito allagato Però qualcuno si è salvato Anzi si suppone Perché dice Si suppone Ci saranno persone Non si sa infatti Ma non è che se poi torniamo nella nostra zatta Adesso ci indica Oddio sto morendo di fame Ci indica l'altro posto Qualcosa del genere Non lo so Dici Non lo so Dovremmo provare Andiamo a controllare Sì Controlliamo Tanto abbiamo finito Raga comunque Bellissimo Bello Cioè mi aspettavo di giocare un gioco Che non avrebbe avuto Nessun tipo di finale Nessun tipo di seguito E invece ce l'hanno dato Invece ci hanno dato un senso Ci hanno dato un continuo Ed è pure figo È molto figo eh E poi sapere di essere tra i primi A trovare tutta sta roba Esatto È anche molto figo Esatto sì Molto figo Bello Sono felicissima cavolo Mi aspettavo tante cose Cioè ho fantasticato su tante cose Tipo la più banale Era di avere dei Capito Chiami qualcuno Ti vengono a salvare E invece no Perché tutta la terra è così accidenti Niente Non ci dà altri segnali Chissà se davvero esiste Penso di chiedere agli sviluppatori Chiediglielo Perché sono molto curioso E se magari lo aggiungeranno Magari Ti lasciano col desiderio Perché il gioco ad esempio Ufficialmente è uscito Da pochissimo Anche se noi lo stiamo portando Da un pochino Mi sa che risulta È uscito il 23 Oggi il 24 Noi ce l'hanno dato in anteprima Chiediamoglielo Magari lo aggiungono a quel posto E dovremmo andare a trovarlo Deve essere bellissima Staremo a vedere Di sicuro come promesso Anche se questo è il finale Noi continueremo a giocare un po' Perché vogliamo allargare la zattera Vogliamo fare davvero Delle robe fighe Perché comunque Abbiamo ancora un bel po' Di meccaniche esplorabili Possiamo farci una casetta decorata C'è un bel po' di roba Davvero interessante da fare E poi staremo a vedere Cosa ci diranno Gli sviluppatori In ogni caso Qua sotto compariranno altri video Lasciate tantissimi likes Per supportare questo finale Che è stato Epico Più bello del previsto Davvero 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 piacevole Super soddisfatti E ci fermiamo così